ieri lunedì 23 ottobre è andata in onda una nuova puntata del grande fratello nel corso della diretta è finalmente avvenuto il tanto atteso incontro tra mirco brunetti e greta rossetti i due dopo essersi conosciuti a temptation island hanno iniziato una relazione protagonista di diversi alti e bassi dopo un primo periodo idilliaco la coppia è entrata in crisi a causa di discussioni nate dalla gelosia di greta nei confronti dell'ex storica di lui per la vatiero il grande protagonista del confronto tra i due infatti è stato il famigerato messaggio che mirco avrebbe inviato a perla all'insaputa della fidanzata l'ex tentatrice infatti ha ribadito di aver perso la fiducia nei confronti di brunetti d'altro canto quest'ultimo pur ammettendo il suo sbaglio ha di nuovo specificato che si trattava di un messaggio senza malizia e non riesce a comprendere i comportamenti della ragazza ad ogni modo nell'intero litigio come ha ben fatto notare alfonso aleggiava ovviamente il fantasma di perla addirittura ad un certo punto signorini ha chiamato la stessa greta perla facendo una gaffe di cui hanno parlato tutti i social sentendosi chiamata più volte in causa l'ex volto di temptation island ha preso in mano i suoi social per chiarire una volta per tutte la situazione perla ecco cosa mi aveva scritto mirco perla si è prima difesa dalle accuse di chi la incolpa della crisi tra greta e mirco di chi invece sostiene che l'incontro tra i due alla milano fashion week sia stato organizzato per visibilità la giovane ha dichiarato di essere stanca di queste continue insinuazioni ed è stata quindi costretta a pubblicare il famoso messaggio della discordia scambiato con l'ex fidanzato la vatiero ha pubblicato sulle sue storie instagram lo screen di una chat con mirco in cui quest'ultimo le aveva scritto non pensare al passato è tutta esperienza non hai buttato via niente serve tutto per crescere e diventare grandi abbiamo seminato e se anche è finita così tante cose rimangono io me lo auguro perché se ti vanno bene le cose per me è come aver raggiunto un traguardo nonostante tutto sarò contento anche io lo sai